Digitalizzazione e sostenibilità, ne parliamo con Chiara Artosi che è la responsabile comunicazione di Unical, lo stand che vedete alle nostre spalle. Che cosa portate in fiera? Qual è il vostro contributo? Quest'anno al SAIE portiamo due macro temi, digitalizzazione e sostenibilità. Per noi di Unical la digitalizzazione si traduce in questa piattaforma BIM neonata che lanciamo proprio in questa occasione, che racchiude una gamma, una libreria al cui interno abbiamo inserito una gamma di prodotti dedicati per aiutare i progettisti nella progettazione delle loro opere e fare in modo che i nostri calcestruzzi siano inseriti nei capitolati una volta che vengono redatti alla fine della realizzazione del progetto. Per quanto riguarda invece la sostenibilità siamo i primi in Italia ad aver ottenuto la certificazione CSC che è una certificazione che vede tutta la filiera della produzione di calcestruzzo e analizza tutti i passaggi tenendo conto dei tre pilastri fondamentali della sostenibilità, quindi economico, sociale ed ambientale. Abbiamo al momento sei certificazioni, tre che fanno riferimento, due al cemento e una alle cave e tre che fanno riferimento ai nostri impianti di calcestruzzo. Quanto è importante rivedersi, guardarsi negli occhi, fare dei progetti, incontrare i clienti in una fiera come SAIE che ha stretto i denti e ha deciso di comunque ritornare a parlarsi in presenza? Importantissimo il potersi confrontare direttamente, aiuta nelle relazioni e soprattutto è un buon messaggio di ripartenza. Noi ci siamo, siamo fiduciosi e speriamo che il nostro settore possa beneficiare di questo nuovo slancio.